grazie per le informazioni sembra che chiara ferragni stia vivendo un momento significativo con il trasloco nella sua nuova casa e che abbia condiviso con i suoi fan alcuni momenti speciali legati alla sua vecchia residenza city life la dedica di fedez in forma di un biglietto ritrovato durante il trasloco aggiunge un tocco personale e romantico a questo momento di transizione la frase io sono qua nel messaggio sembra essere un gesto affettuoso che potrebbe rappresentare un segno di sostegno e vicinanza è comprensibile che i fan siano curiosi di saperne di più sulla vita della coppia e sul loro trasferimento nella nuova casa molte persone seguono da vicino la vita di chiara ferragni e fedez attraverso i social media dove condividono spesso momenti della loro vita quotidiana è normale che ci siano opinioni contrastanti riguardo agli arredi mostrati da chiara ferragni poiché il gusto estetico è soggettivo e varia da persona a persona le critiche sui social sono comuni e ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione su questioni di stile e design a